Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Farmer Dynasty. Allora ragazzi, dall'ultima volta a oggi ho fatto qualche cosina di utile. Allora, la volta precedente abbiamo comprato il campo nuovo e abbiamo raccolto tutto il nostro terreno qua, i nostri frutti della terra. Ok, ho fatto le palle di pieno, le balle di pieno e quant'altro, ok, adesso vi faccio vedere. Allora, sono andato a fare il pieno alle nostre mucche, in modo tale che così hanno il 100% di quanto riguarda il mangime. Ok, adesso vi faccio vedere. Ottimo, non ce lo segno più, perfetto. Letame sì, mucche no, adesso vediamo un po', eh. Ok, il 99% come potete vedere, quindi le mucche hanno da mangiare. Allora, il resto rimanente l'ho messo qua per adesso. Eh, ok, quindi vado a svuotare anche questo carrettino qua. Ok, perfetto. E questo abbiamo svuotato tutto. Allora, vediamo un attimino la mappa. Allora, noi abbiamo comprato questo terreno qua. Grano 100%. Io spero che non essendo saturato, coltivato, fertilizzato e quant'altro, che cresca lo stesso, spero almeno. Ok, così non andiamo a coltivare un altro seminario, un altro terreno, magari inutile. Anche perché è l'unico che abbiamo comprato ed è l'unico che è già coltivato. Boh, non vorrei fosse un baghettino o roba del genere. Comunque, attendiamo. Allora, in questo episodio andremo a trebbiare il terreno, questo qua. Ok. Che è pronto per il raccolto. Grano 91,36. 92,36 perché se ben vi ricordate ragazzi sono passato sopra per letamarlo, ma ormai stava già dando i suoi frutti e quindi mi ha tolto quale percentuale lì. Ok. 95%. Questo cosino qua davanti me lo lascia sempre per terra. Ok. 95% ce l'abbiamo. Poi successivamente ragazzi andremo a preparare già questi due terreni per il nuovo raccordo, la nuova stagione. Dunque, 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 mappa, vediamo un attimino ragazzi. Vediamo un attimino se qua c'è ancora l'offerta, sì, per l'orzo. Ok. Quindi io successivamente andrò a coltivare tutto esclusivamente orcio ragazzi. Che è quello che cresce prima in confronto alle altre culture in base alle tempistiche per quanto riguarda il raccolto e per quanto riguarda il prezzo di vendita. Ok. Procediamo. E vediamo se ci dà anche questo terreno un bel po' di big money ragazzi. Grazie. 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 Grazie a tutti tutti qua nel Silos. Poi successivamente andrò a vendermi. Allora abbiamo fatto su la bellezza di 11.190 kg solo per quel terreno lì. E direi che è proprio un buon raccolto. Ok ragazzi. Allora. Adesso. Andiamo a utilizzare il nostro bel trattorino e fare queste balle di fieno di cuo. ok e andiamo a preparare il terreno per il prossimo raccolto esattamente l'altro terreno di là ok quindi andiamo a raccattare il nostro bel trattorino qua in serra diamo un'occhiata se è successo qualcosa e direi che per adesso non è ancora cresciuto niente ok va bene ho piantato tutte le zucche allora trattorino trattorino l'avevamo lasciato esattamente qua ok stacca il rimorchio ok andiamo a raccattare l'imballatrice che l'avevamo lasciato esattamente qua ragazzi la moda per l'aggancio ok mettiamoci in asse ok e andiamo a impattitare ok partiamo ok 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 Grazie a tutti. Ok ragazzi, allora, abbiamo fatto tutte le nostre belle ballettine, ok, ne sono venute fuori parecchie devo dire ragazzi, visto che il raccolto è andato proprio bene, ne sono venute fuori veramente tante, ok, ottimo direi, perfetto. Ok, queste le andrò a vendere tutte, perchè in qualsiasi caso noi abbiamo già le nostre belle ballettine per quanto riguarda l'alimentazione delle nostre mucche bio, ok. Ok, allora stacchiamo qua il nostro macchinario, va bene, va bene, va bene, allora, dunque io direi che potremmo andare a raccattare il... Lì, lì, niente, il rapido, lo possiamo andare a raccattare, ok. Ok, andiamo un po', metterci in asse. Ok, mettiamoci in asse qua, e attacchiamolo. Ok, perfetto. Allora, andiamo a preparare il nostro teatroieno per il nuovo, la nuova simile. Allora, partiamo a bombare. Allora, partiamo a bombare. Ok, ragazzi, come avete potuto vedere, ha dato il 100%, perfetto. Ok, allora, depositiamo l'aratro adeguatamente, ragazzi. Perfetto, eccolo qua. Tattattà, tiri tiri pa. Ok. Perfetto, prendiamo la nostra bella concimetrice. No, concimetrice, scusate, la nostra bella concimetrice. Eeeh, sì. Ok. Pian pianino, pian pianino, pian pianino. Ok. La rottura più grande, ragazzi, di scatole, è a rara di terreno, perché è la... E' la fase più lenta. Ok. Mettiamoci in asse e partiamo a bombarsi. Ok. 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 Ok, ragazzi, ultimo passaggio. Siamo esattamente al 99% di coltivatura. Ok. Allora. Adesso andiamo a raccattare le uova e a mungere le mucche, perché non l'ho ancora fatto in giornata. Se no, le andiamo a perdere. Lascia giù il nostro mezzo poderoso. Ok. Perfetto. Mangiamo le mucche. Siamo veramente stanchi, devo dire. Abbiamo anche fame. Quindi direi, prima raccattiamo le uova. Così ne mangiamo un po'. Infatti, non corre neanche più il nostro personaggione. Vede che ne ha proprio i pennelli di Zebedee della giornata. Che è da stamattina che è lì che lavora. Ok. No, hanno cambiato l'icone, come potete vedere, ragazzi. Adesso fa vedere l'ovo e la quantità. Ok. Ci sono stati diversi aggiornamenti, poi, casomai, negli episodi successivi ne andremo a parlare. Perché ci sono alcune cosine che sono veramente una figata. Ok. Uova raccolte, andiamole a mangiare direttamente. Ok. Era affamato per quello che non correva. Mungiamo le mucche. Ok. Ok, racconto tutto. Allora, anzi, munto tutto. Va bene. Allora, quindi questo terreno qui, dobbiamo fertilizzarlo e letamarlo. Va bene. Questo qui, invece, dobbiamo andare a raccattare le balle di fieno. Ok. E andarlo a ripreparare completamente per quanto riguarda la nuova stagione. Lo vedremo successivamente. Ok. Allora, andiamo a dormire, ragazzi. E direi che per oggi possiamo fermarci qui. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piaciendo. In ogni caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Ragazzi, se non siete iscritti, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.